Ciao a tutti e benvenuti a questo mio video un po' sfogo perché io stavolta non riesco, anche stavolta, sì, perché diciamo che Chiara Facchetti è un po' oggetto di spesso comunque non spesso, vabbè, però ogni tanto è vittima o comunque oggetto di miei video ma perché semplicemente vedo cose che non mi piacciono e quindi io credo di avere il diritto di esprimere quello che penso anzi, mi farebbe piacere se questo mio video rientrasse in uno dei suoi prossimi video reaction ai video degli haters, tra virgolette, vi lascio qui, anzi, a proposito, il video che ho fatto proprio sull'argomento hater in cui appunto spiego un po' il mio punto di vista su questa parola e sull'abuso che secondo me gli youtuber ne fanno attribuendogli un significato sbagliato comunque, ah, e vi farebbe anche piacere se qualcuno dei tanti suoi ammiratori, fan, follower, chiamateli come può seguaci, smentisse, ma con delle prove concrete, quello che io sto per dire perché secondo me con questo video lei ha dimostrato la sua incoerenza ma soprattutto questa sua proprio scarsa sensibilità e ipocrisia nei confronti del problema coronavirus in quanto in questo video incriminato, quello in cui già dall'anteprima sembra annunciare una notizia tragica o comunque un problema, una notizia triste, ma sappiamo tutti che le anteprime non corrispondono mai alla reale portata poi del problema o comunque del contenuto del video in cui lei dichiara appunto che non farà la sua festa di compleanno proprio perché c'è il coronavirus e quindi vuole evitare di fare la festa con l'assembramento di per sé la decisione è da premiare, no? È una decisione giusta, anzi molto responsabile tant'è che sotto a quel video tutti i vari commenti sono infatti di lode a questo suo, diciamo, sacrificio tra virgolette di non festeggiare il compleanno e qualcuno veramente la esalta come persona molto sensibile molto responsabile, eccetera. Ma io vi chiedo, queste stesse persone che la seguono così assiduamente che la ammirano così tanto, che non si perdono neanche un suo video, cosa che invece io non faccio perché non è che sto sempre lì a guardare tutti i suoi video o comunque tutte le cose che fa ma io non dico tanti anni fa, ma qualche settimana fa, quindi in estate, quando lei è andata a fare la sua vacanza, ma si sono già dimenticati delle storie che aveva postato su Instagram? No, perché Chiara Facchetti è veramente bravissima, devo dire, a sfruttare le tragedie. Tutti ci ricordiamo, penso, quando la vicenda appunto dell'Hacker, quando aveva inventato quella storia veramente inverosimile per giustificare una cosa che di fatto richiedeva solamente le sue scuse, piuttosto che una cosa del genere, in cui appunto aveva sfruttato l'attentato dal Bataclan per promuovere il suo video, cosa c'era nella sua borsa firmata e anche lì secondo me avrebbe dovuto perdere tantissimi iscritti proprio per questo suo comportamento infantile perché sarebbe solamente bastato dire sì ok è vero, ho sbagliato, non ci ho pensato, non ci ho riflettuto, scusatemi. Ok, ci sta perché voglio dire, anche io spesso faccio qualcosa di impulsivo proprio perché il mio carattere non mi porta tanto a riflettere su quelle che possono essere le conseguenze delle azioni e quindi magari a volte sì, faccio qualcosa di impulsivo, poi magari dico ok ho fatto una cavolata e quindi succede. No, invece lei pur di non chiedere scusa, pur di non ammettere di avere fatto una cosa veramente immorale ha inventato una scusa che poi ha portato avanti per tantissimo tempo e stavolta secondo me ha rifatto lo stesso gioco. Quest'estate lei ha postato su Instagram immagini di lei che andava appunto in giro in vacanza e che faceva foto abbracciata con il suo amico Cristiano e altri fan che incontravano magari in giro che volevano appunto fare le foto con loro perché a quanto pare anche questi fan non hanno proprio resistito a questa tentazione di fare la foto con questi loro beniamini e quindi ha postato qualche foto di loro appunto abbracciati con questi fan. Sappiamo tutti che in periodo di coronavirus questo non si può fare, a volte mancava anche la mascherina ma anche con la mascherina non ci si può abbracciare così liberamente. E invece qui tutti abbracciati. Così come ha postato anche e poi io dico le foto che ha postato con i fan sono veramente credo una piccolissima parte di tutte quelle che avranno fatto con altre persone magari che non hanno Instagram o comunque non si sono ripostate, ridaggate, non lo so e quindi sicuramente di foto ne avranno fatte altre con altre persone nelle stesse condizioni. E poi ha postato foto in cui era a tavola con tante persone, una tavola molto lunga con tante persone, anche queste appunto taggate qua in line, tutti appiccicati ovviamente, attaccati senza le mascherine. Anche questo non si può fare, lo sappiamo benissimo che nei ristoranti o comunque per mangiare allo stesso tavolo possono stare solo i congiunti, gli amici, i conoscenti, chi non si conosce vuole cenare insieme e deve stare in tavoli separati. Loro no, hanno postato questo. Così come hanno postato altre immagini abbracciate magari ad altre persone o comunque che stava partecipando comunque a degli eventi sia all'aperto ma piene di persone, anche lì tanto vicine. Ovviamente io mi dico, allora, durante l'estate lei ha tenuto, almeno per quel poco che si è visto sulle storie, no? Perché a questo punto mi è da pensare che quelle stesse cose che ha postato le abbia magari fatte altre ancora di più. Quindi quest'estate ha tenuto un comportamento veramente contrario a qualunque prescrizione anti-covid. E ora fa un video in cui sembra sacrificarsi in nome di questa pubblica salute e di non fare la festa, ma secondo me rispetto al comportamento che ha tenuto in estate in cui ha veramente favorito la diffusione del coronavirus in un modo molto maggiore rispetto a se facesse la festa di compleanno. Perché io penso che in vacanza e con questo modo di fare ha avuto rapporti con una quantità di persone senz'altro superiore a quella che parteciperebbe alla festa di compleanno. Quindi secondo me avrebbe fatto meglio a fare la festa di compleanno piuttosto che a comportarsi così in estate. Anche perché quelle scene che lei ha postato sulle storie di Instagram sono più o meno le stesse che ci fanno vedere in tv dei vari assemblamenti o comunque delle varie feste in discoteca o comunque che fanno i giovani in vacanza e che a noi tanto appunto ci fanno arrabbiare. Quindi io mi chiedo, quando lei anche questo è stato appostato queste foto, cioè io appena le ho viste mi sono detta che sta facendo davvero? Ma non sa che c'è il covid? Ma chi la segue? Non ha pensato nulla? Cioè non ha pensato ma che sta facendo? E non le ha scritto messaggi di rimprovero? Io penso che... Allora, questo suo video lei lo abbia fatto un po' perché avrà ricevuto secondo me tanti insulti sotto a quei post perché è impossibile che chiunque l'abbia visti non si sia indignato di quel comportamento perché era un comportamento veramente sbagliato e quindi abbia potuto fare un video di questo tipo per non rimetterci la faccia ma poi siamo veramente sicuri che non farà questa festa di compleanno, cioè a me sinceramente non interessa però conoscendo un po', vedendo un po' come si comporta il tipo, secondo me la festa di compleanno la farà che poi non ce la fa vedere, anzi non ve la fa vedere perché a me se farà un video sulla festa di compleanno non lo guarderò, non ve la farà vedere e quindi voi sarete sicuri che non l'abbia fatta e fine. Anche perché a me un'altra cosa che veramente sa molto di finto nei suoi video è quando vuole fare la seria e vuole parlare di un qualcosa di magari serio, appunto di un problema o anche parlare di un qualcosa di bello e quindi magari c'è anche il momento in cui si commuove, tra virgolette e la cosa che io ho notato è che quando parla di queste cose sia belle che brutte usa sempre lo stesso tono di voce, ha sempre lo stesso modo di parlare di quell'argomento e anche lo stesso modo di commuoversi. Quindi io penso se devi parlare a distanza ovviamente di tempo, perché parlo di vari video in diverse appunto situazioni, in diverse circostanze di un qualcosa di brutto o di bello, non può essere che tu ti trovi sempre nello stesso stato d'animo, perché gli stati d'animo cambiano e quindi non è possibile che tu parli sempre allo stesso modo, con la stessa tonalità, la stessa modalità, perché ci può essere una cosa che magari ti emoziona un po' di più e quindi magari sei più emozionato quando ne parli o che ti fa arratristire, arrabbiare un po' cioè non è possibile parlare sempre allo stesso modo, quindi questo mi sa tanto di recitazione come anche appunto quando si commuove, mi sa tanto di recitazione, però a quanto pare funziona perché tutti ci cascano tutti applaudono sempre alla sua spontaneità, alla sua naturalezza, alla sua semplicità io ho detto la mia, io spero davvero che questo video torni di nuovo a circolare su youtube in qualche video reaction ai video degli hater, anche se so che se così sarà la parte centrale del mio discorso non verrà ovviamente fatta vedere, non ci sarà nessuna risposta a questa mia osservazione semplicemente verrà fatto vedere magari all'inizio, verrà detto ecco un'altra che parla senza conoscermi e finirà lì ma di fatto il succo del mio discorso è che lei secondo me ha sfruttato con questo video incriminato che io appunto ho visto e mi sono detta che dice sfrutta il coronavirus per le views così come aveva fatto l'altra volta con il Bataclan per le views fregandosene della reale gravità portata dell'evento, del fatto, della situazione io penso questo, quindi non lo so, io penso così e non mi reputo affatto una hater infatti se guardate il mio video vi spiego anche il perché ho semplicemente espresso una opinione guardando il comportamento così divergente su una stessa cosa di questa persona e a me delude sempre di più sinceramente più secondo me va avanti e più vede che questo suo modo di fare comunque le porta vantaggio e più non smetterà di farlo, quindi vedremo che succederà niente, io vi ringrazio per aver guardato questo mio sfogo ma io oggi dovevo fare questo video veramente perché cioè, ma chi la segue davvero non riesce a notare queste cose così divergenti? voi fan di Chiara Facchetti che magari guarderete questo video vi prego, lasciatemi un commento sotto su quello che pensate di quello che ho detto stop! al prossimo video, ciao!